Se una persona ci tiene, e il modo lo trova, va sotto casa vostra, vi cerca ovunque voi siate, frequenta i vostri locali, vi aspetta fuori casa, si va a trovare. Se una persona vi vuole, vuole fare qualcosa per voi, il modo lo trova, queste cose non esistono solo nei film, è che c'è poca gente coraggiosa, è che mancano i connotati, è che è meglio buttare tutto, è che è meglio chiudere la porta, e aprirne un'altra, ma toglietevi dalla testa, che certe cose non si possano fare, semplicemente una cosa, non lo vogliono fare. Il modo lo si trova sempre, il modo lo si trova sempre, se una persona ci tiene, il modo lo trova, va sotto casa vostra, vi cerca ovunque voi siate, frequenta i vostri locali, chi aspetta fuori casa, si fa a trovare, se una persona vi vuole, vuole fare qualcosa per voi, il modo lo trova, queste cose non esistono solo nei film, è che c'è poca gente coraggiosa, è che mancano i connotati, è che è meglio buttare tutto, è che è meglio chiudere la porta e aprirne un'altra, ma toglietevi dalla testa, che certe cose non si possano fare, semplicemente una cosa, non lo vogliono fare, Il modo lo si trova sempre, il modo lo si trova sempre, sempre, sempre.